Allora, adesso chiamerei Giuseppe Marini del Movimento Terra Libera, poi interverranno Roberto Spano del Movimento per la Decrescita Felice e il suo omonimo Roberto Spano, amministratore delegato di Sardex. Buongiorno a tutti, complimenti per l'organizzazione, mi ha fatto piacere vedere una sala completa, vuol dire che l'indipendenza la si sente, la si sente forte perché ciascuno di noi rappresenta un proprio gruppo. Io volevo presentare il nostro movimento che è nato, è nato da un progetto che è stato fatto per cercare di portare fuori dalla Sardegna i nostri prodotti, i nostri prodotti intesi come servizi, come prodotti artigianali, come prodotti di agricoltura e quant'altro. Quindi in 77 punti vendita tra Italia e estero e ci siamo ritrovati con un grosso problema, quello di non riuscire a soddisfare quella che è la domanda. Da parte delle nostre imprese, sono circa un migliaio che stiamo crescendo di giorno in giorno e saremmo diciamo ufficialmente presenti da gennaio in poi, per questioni mie purtroppo personali di salute non abbiamo potuto fare prima e dicevo il grosso problema sarà quello di soddisfare quelle che sono le richieste perché i prodotti sardi sono ben apprezzati in tutto il mondo, non sono conosciuti purtroppo in tutto il mondo e parlando di prodotti parliamo anche di pacchetti turistici e parlare con il tuo operetto del paese dell'est, Cina, Giappone e quant'altro che vengono, che mandano in massa milioni di turisti in Europa e non sanno che esista la Sardegna ci rimane anche male, ci rimane tanto male. Allora abbiamo tanto da offrire sia qua in casa e tanto da portare fuori per poter far lavorare chi sta qua in Sardegna e che seppure ha un poco movimento sul posto all'azienda che insomma lavora e i camion non arriverebbero soltanto pieni per svuotare a dare via vuoti ma andrebbero via carichi per poter rifornire i nostri negozi che poi andranno a far conoscere il prodotto i sardi per quello che veramente sono e non per come vengono rappresentati perché ci siamo scontrati anche con un altro grosso problema che è quello di trovare il taroccamento del prodotto sardo fuori e sinceramente vedere i curugionis che è una pattacca di cosa così che fa schifo e dire ah li ho assaggiati non mi piacciono, non sono questi e quali sono te li porto. Ecco noi stiamo portando i nostri sapori, portando le nostre tradizioni, la nostra cultura. Tutti i mesi faremmo il mese del pane, il mese del dolce, il mese del formaggio e così via e in questo modo cercheremo di far conoscere quella che è veramente la Sardegna di modo che anche la stagione turistica possa trovare un prolungamento in modo da cercare di portare la gente per la vendemmia, per la mietitura, per la tosatura e quant'altro. Questa era una prima presentazione però ci teneva a dire, purtroppo molti hanno si sono portati via il tempo, due cose. Allora il problema che vi ho detto è quello di non riuscire a soddisfare il perché. Perché non hanno la possibilità di avere accesso al credito per poter ristrutturare l'azienda? Perché faccio? Io voglio mille, riprendo il discorso dei curugioni, voglio mille curugioni, ok te li do, ne voglio diecimila e devo comprare un'altra impastatrice, mi serve un'altra stanza, non ho i soldi, la banca non me li dà. Allora noi abbiamo 2 miliardi, 300 milioni da circa tre anni fermi nelle casse delle banche sarde, della comunità europea, solo fondi bei. Non vengono dati, siamo andati alle banche a chiedere, non vengono dati perché nessuno li chiede. Allora perché non li chiedono? Andiamo a dare confidi, siamo andati alle confidi, perché non date ai vostri iscritti la possibilità di poter attingere a questi fondi? Risposta delle confidi, non sappiamo come si chiedono. Allora abbiamo portato, chi ha già usato questi fondi in altre regioni d'Italia, qua abbiamo portato in banca, abbiamo portato le confidi, abbiamo detto senti, si fa in questo modo, mandate qualcuno su, una settimana, gratuitamente, vi spieghiamo come funziona, vi diamo una mano e via. Abbiamo il professor Rotondi che ci dà una mano, che è un illuminare della finanza, è la figlia, è una delle quattro persone che deliverano le pratiche bei, perché a fine 2013 ragazzi i soldini se ne vanno. Perfetto, beh risultato, non mi ha dato una persona a fare questo corso. Alla regione abbiamo chiesto come Movimento Terra Libera che venisse attuato il piano Jeremy, non si sa che cosa sia, le altre li hanno applicato, vuol dire avere il 24% del progetto imprenditoriale finanziato con un tasso zero da rendere in 30 anni, che sull'altro fondo Bay che ha a disposizione del 50% arriviamo a un 74%. A quel punto ho fatto lo sfacciato a Cappellaccio, una lettera ho chiesto che, visto che non sarà più il gasdotto e ci sono circa 150-180 milioni di euro a disposizione, che erano preventivati per quel progetto, che vengano immediatamente messi a disposizione per la piccola e media impresa Sarda perché sta morendo, perché nel 2012, chi non è morto nel 2012 morirà nel 2013. E allora io vi dico la cosa, non parliamo di indipendentismo, facciamo indipendentismo ma facciamolo immediatamente. La fuori si sta morendo, non c'è più tempo, non abbiamo più tempo. Io parlo tutti i giorni con queste imprese, sono un migliaio, sono distrutti, li devo rincuolare, si deve andare a levarli da fune e dal collo. Io ho perso un amico alcuni giorni fa, per questo. Io non ho figli, non ho imprese, non ho soli da vestire, sto anche a lavare di salute, ma mi piange il cuore tutti i santi giorni. Vedere questi ragazzi che non hanno, che sono vuoti, che non hanno l'idea di che cosa gli dà il futuro, sapere che vanno le elezioni a votare chi? Il meno peggio. Ma perché il meno peggio? Perché non gli diamo la possibilità di votare noi, di unirci, di far capire che c'è un polo sardo, forte, che ha voglia di svegliarsi, che ha voglia di riprendere in mano quello che i nostri padri ci hanno dato. Abbiamo noi il dovere di ridare ai nostri figli quello che i nostri padri ci hanno dato un po' dietro. E invece no. E aglio prendere la coa. Una cosa voglio dire, non si può andare ancora a Roma a protestare, a prendere manganellate per chiedere di essere ancora inquinati. Ci sono altre cose da fare, è vero. C'è la Sardegna che lo disegna, che ci sono altre cose da fare. E chi mi ha preceduto l'ha detto. Il sulci non è da meno con l'archeologia, con il turismo, con il mare. Allora ci sono 330 milioni nel sulci, sfermi da anni, che non si usano per le bonifiche perché non ne hanno distribuiti politicamente. Lo sapete che è per questo. E sono divisi a province, a zone. Ci sono aziende disposte a portare via tutto quello che c'è di Alcoa e a ripulire il territorio a gratis. Si portano via tutto in cambio. li volete, ve li portiamo, ne parliamo. C'è anche qualcuno degli emilati arabi disposto ad investire, non a comprare. Anche in concessione, ma i soldi sono là. Mettiamogli le regole. Ma facciamo, diamo l'alternativa che chiedete. Non si può soltanto dire no, va bene, basta l'industria. L'alternativa, avete detto giusto, l'alternativa. Dov'è l'alternativa? Quella bisogna proporre. Se no facciamo come fa qualche altro partito italiano. Si parla, parla male solo di Berlusconi, ma non propone niente. Cosa facciamo noi? Parliamo male di quello che c'è e non proponiamo nient'altro. A una a una, smantelliamole, diamo di tempo, 15 anni, 10 anni. Devi andare via. Le terre in America destinate ai poligoni, eccetera, sono state considerate terre destinate a sacrificio nazionale, recintate, per elementi chiuse. Questa deve diventare la Sardegna. Questo succederà. E allora svegliamoci. A Sardegna, dopo il 50, c'è un progetto dove i sardi devono andare via. Dove diventare la terra delle fabbriche inquinanti. Dove diventare la terra dei poligoni militari. Questo. E gli americani si inventavano, chiamano la più grande portaerei nel Mediterraneo, chiamata Sardegna. E noi però avevamo posti lavoro. E ora ne stiamo pagando le conseguenze. Ci hanno tolto Saberrida, ci hanno messo un casco. Ci hanno tolto la giacca di velluto, ci hanno messo una tutta. Ci hanno tolto scosigli, ci hanno messo i cartoni antifortunistici. E cosa siamo diventati? Dei bravissimi cassi integrati. Abbiamo perso, non sappiamo più fare il formaggio, non sappiamo più coltivare la terra. L'identità, tutto questo abbiamo perso. Riprendiamocene, ce ne abbiamo. Non dobbiamo andare a cercarle, ce ne abbiamo. Grazie, buon lavoro. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti.